Dopo un grande periodo alla Fiorentina, Federico Chiesa è stato acquisito dalla Juventus. A Torino, Chiesa non è riuscito a essere il grande protagonista che la Juventus sperava. Nella nazionale italiana, la stessa cosa, Chiesa non è riuscito a essere il grande nome della squadra, e ora, con l'eliminazione dall'Europeo, il suo valore di mercato è diminuito dopo una serie di prestazioni deludenti nella competizione. Con tutto questo e con il suo contratto che scade a gennaio 2025, la Juventus ha deciso di vendere Chiesa. Esatto, la dirigenza, insieme a Motta, ha avuto una riunione in cui è stato deciso che la cosa migliore per il club sarà la vendita di Chiesa. Va sottolineato che la Juventus ha cercato di rinnovare con Chiesa, ma lui non ha voluto. Quindi, per evitare che lasci la Juve a parametro zero, il club intende venderlo quest'estate.